Dunque, le infezioni urinarie sono delle infezioni, cioè una aggressione da parte di organismi esterni al corpo umano che sono i batteri, che sono esseri non visibili a occhio nudo, unicellulari, che convivono con noi e che ogni tanto possono, se si trovano nel posto sbagliato o acquisiscono una particolare virulenza, determinano l'infezione. L'infezione è l'insieme dell'infestazione dei batteri più la risposta del nostro organismo, cioè la risposta infiammatoria del nostro organismo, che sono quella che dà i segni di malattia, è l'infezione dopo l'infezione respiratoria più frequente nel bambino ed è un problema con il quale noi ci troviamo a che fare praticamente costantemente, insomma, in maniera estremamente frequente. È più frequente nel maschio prima dei sei mesi di vita e poi diventa decisamente molto più frequente nella bambina in età successiva, per tutta una serie di motivazioni. Beh, esistono infezioni urinarie strutturali, diciamo così, infezioni urinarie non strutturali, cosa intendo con strutturali e non strutturali? Strutturali significa che sono infezioni urinarie che possono essere favorite dalla compresenza di una anomalia strutturale dell'apparato urinario, che può essere o una patologia di tipo ostruttivo, cioè il flusso dell'urina è ritardato, è impedito, si raccoglie e la spiegazione che io do spesso ai nostri, ai genitori dei nostri bambini è immaginatevi un corso d'acqua, se un corso d'acqua è un torrente e quindi l'acqua corre veloce, è un'acqua limpida, se è un'acqua stagnante diventa un'acqua torbida e la stessa cosa succede nell'apparato urinario, cioè se il deflusso dell'urina è libero, meno facilmente si possono verificare delle infezioni, se invece abbiamo un corso d'acqua stagnante, cioè l'urina ristagna, più facilmente ovviamente può essere raggiunta da batteri. Batteri nell'urina ci sono sempre, però è proprio il meccanismo dell'eliminazione continua dell'urina che rende più difficile verificarsi delle infezioni, quindi possono essere quelle, può essere un fenomeno particolare che è il reflusso vescico-oreterele, cioè l'urina che dalla vescica risale verso i reni e poi abbiamo una grossa quota di infezioni delle urinarie che invece non hanno una causa di tipo organica e nella quale dobbiamo andare a cercare se ci sono dei fetomeni di tipo funzionale che possono favorire questo problema. Ho già detto che dopo il primo anno di vita le infezioni sono più frequenti nella femmina, perché? Perché la femmina più frequentemente del baschio va incontro a disturbi minzionali di tipo funzionale, cosa sono? Sono problemi in cui la bambina non riesce a urinar raramente oppure urina molto frequentemente, non riesce a eliminare tutta la pipì dalla vescica, spesso e volentieri si accompagnano alla stitichezza che è uno dei fattori fondamentali che vanno sempre indagati in questi bimbi, esiste una sindrome specifica che è la sindrome vescica intestino proprio in cui abbiamo un'incapacità a svuotare sia il retto sia la vescica e quindi i fattori sono molti, vanno indagati in maniera ordinata e cominciando con una buona anamnesi e poi con esami strumentali mirati. Allora sintomi tipici diciamo del bambino sono diversi rispetto a quelle dell'adulto, cioè il neonato con infezione della via urinaria non è un neonato, ovviamente il neonato non ti può dire che gli fa male il fianco o che gli brucia a fare pipì, però di solito nel neonato abbiamo tutta una serie di sintomi sistemici, cioè la mamma racconta che il bambino ha smesso di mangiare, che ha perso peso, il colorito non è il colorito roseo che siamo tipici, siamo abituati a vedere nel bambino, il bambino è svegliato, è sonno lento, spesso addirittura difficile da risvegliare, può avere febbre ma può anche non averla, addirittura in certi casi di shock settico possiamo avere un bambino che è ipotermico rispetto alla temperatura normale. Poi man mano che il bambino cresce i sintomi diventano sempre più localizzati e sempre più evidenti, quindi abbiamo infezioni che vanno classificate, questo è importante ricordare sono infezioni del basso apparato urinario che sono infezioni che danno una sintomatologia prevalentemente locale, difficoltà a farla pipì, bruciore a farla pipì, senso di peso sovrapubico, dolore nel momento in cui un bambino fa la pipì, incapacità a farla, difficoltà a farla e le infezioni delle alte vie urinarie che sono infezioni che interessano invece la via urinaria dalla vescica ai reni in cui possiamo avere sintomi sistemici importanti, male al fianco o male alla pancia, molte volte il bambino non è in grado di localizzare con precisione un dolore per cui ti indica il centro della pancia e sta a te capire se si tratta di un problema funzionale o se invece c'è un problema più serio. Ovviamente in questi pazienti compare più facilmente la febbre se è un'infezione che interessa appunto l'alto apparato urinario e quindi può interessare il rene e dare poi anche dei problemi a distanza. Dunque l'infezione delle vie urinarie come ho detto è un'infezione molto frequente, non va sottovalutata, io ancora troppo spesso nonostante tutta l'opera di pubblicistica che abbiamo fatto, vedo arrivare in studio bambini e quei genitori mi dicono che il bambino ha sofferto di cistiti, la cistita è un tipico sintomo diciamo di un'infezione bassa che di solito interessa la semina dai tre anni fino alla menopausa di solito anche oltre, quindi il termine cistite indica una certa sottovalutazione del problema, l'infezione delle vie urinarie va sempre considerata potenzialmente pericolosa fino a quando non si è dimostrato il contrario. Quali sono i pericoli? I pericoli sono quelli del danno renale perché il rene reagisce all'infezione con un'infezione renale, la cosiddetta pielonefrite che guarisce ma guarisce con delle cicatrici quindi con perdita di tessuto funzionale del rene e con la sua sostituzione da del tessuto cicatriziale che come tutte le cicatrici non è un tessuto funzionale. Non essendo un tessuto funzionale si perde il potenziale funzionante del rene. Questo può portare sul, se si tratta di gravi infezioni ripetute bilaterali in presenza magari di anomalie gravi tipo le valvole d'oltre posteriore può portare insieme di solito a un difetto di formazione dei reni anche all'insufficienza renale più o meno grave addirittura al trapianto di reni. Ma anche nelle forme meno gravi in cui la funzionalità renale è più o meno conservata noi sappiamo che c'è una percentuale elevata intorno al 10 e il 20 per cento dei casi di ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa nefrogenica è una grosso vendica perché soprattutto rappresenta una, come dire, una grossa minaccia per lo sviluppo del bambino. Allora, come vi ho detto, la prima cosa è riconoscerle e non sottovalutarle, non pensare che si tratti di una patologia benigna da stregua di un raffreddore perché la mamma magari soffre di cistiti che bevendo un po' di più nel giro di due o tre giorni passano. Quindi nel bambino può, secondo me, la valutazione del rischio deve essere fatta dall'urologo o dal nefrologo pediatra, cioè deve essere lo specialista che ti dice sì, guarda, tuo figlio soffre di infezioni urinarie potenzialmente rischiose, ha un danno renale, va seguita la pressione arteriosa per tutta la vita, va seguita l'esame delle urine per vedere se c'è albuminuria o meno che può comparire anche nel bambino molti anni dopo l'infezione, oppure dice no, vabbè qui non è successo niente, fortunatamente sono delle infezioni ragionevolmente banali e quindi la prima cosa, ci sono cose molto semplici, come abbiamo detto uno dei fattori che favorisce in maniera direi essenziale l'infezione delle urinarie è la stitichezza, è stato dimostrato che il retto pieno impedisce alla vescica di svoltarsi correttamente, corollari o bisogna che i bambini facciano la pipì ad intervalli regolari. Certamente c'è una fase in cui la vescica matura, la vescica perfettamente matura sia verso i 4-5 anni di vita, ma bisogna controllare soprattutto le bambine che sono quelle più soggette ai disturbi funzionali della minzione che urinino con un intervallo regolare, di solito si consiglia di farle urinare ogni tre ore durante il giorno, che non perdano la pipì, che non abbiano incontinenza urinaria, che non debbano correre a fare la pipì, oppure debbano fare quelle manovre che vengono chiamate holding maneuvers, cioè quelle manovre per trattenere la pipì, tipo ballare sul posto, incrociare le gambe, questo vuol dire che c'è una vescica iperattiva, c'è una vescica che si contrae prima di aver raggiunto la capacità massima. Fondamentalmente una vescica vuota non si infetta. Se invece la vescica o non viene svuotata perché sono bambine di solito che fanno la pipì raramente, due o tre volte al giorno, come ci sono tante signorine che non sentono lo stimolo, perché fuori di aspettare di fare la pipì la vescica si disabitua, diventa sempre più larga, sempre più capace e queste vesciche che una volta venivano chiamate lazy blooders, cioè vesciche pigre, adesso si chiamano vesciche ipocontrattili, però il concetto è sempre lo stesso, cioè quando una vescica è ipocontrattile si svuota raramente, si svuota soprattutto con un residuo postmenzionale. Quindi questo è un atteggiamento che nelle bambine e anche nei maschi, ma soprattutto nelle bambine, va evitato. Come? Dandogli da bere tanto, i bambini devono bere circa 50 cc pro chilo di E, quindi questo grosso modo è ben diviso, suddiviso nel corso della giornata e devono andare a fare la pipì ogni tre ore, fare la pipì sedute comode, sulla toilette, ben appoggiate, con i piedi appoggiati per terra, se non arrivano è meglio mettergli un piccolo scabellino, leggermente col fluido, e soprattutto senza fretta, cioè io vedo tante volte i bambini, le bambine che vanno in bagno, fanno la pipì un attimo scappano perché devono andare a giocare, giocare a vedere la televisione, giocare con le mie lecce, no, è una funzione fondamentale alla quale bisogna dare tutto il tempo che necessita e questa è già una cosa molto importante. Poi se capita a volte, può capitare che ci siano degli alimenti che sono in correlazione facilmente con l'infezione delle viurinarie, è molto meno frequente di quanto la box populi, diciamo, non creda, c'è una domanda classica che mi fanno le mamme, ma che cosa non deve mangiare? Cosa non deve mangiare? È chiaro che buone regole di alimentazione servono dappertutto, insomma, quindi devono mangiare frutto, verdura, insomma, quello che si consiglia di una dieta equilibrata, mista, e poi se ci sono delle intolleranze alimentari, chiaramente quello è un altro discorso, ma non c'è un effetto diretto, a meno che non sia una dieta che provoca una stichezza elevata, ci sono dei soggetti che reagiscono con stipsi all'introduzione di determinati alimenti, chiaramente in questi casi questi alimenti vanno evitati, ma fondamentalmente una vita normale, una vita attiva, una buona igiene perineale, cosa vuol dire una buona igiene perineale? Vuol dire che ovviamente i bambini e le bambine in modo particolare, quando sono andati al gabinetto per evacuare, devono pulirsi, stando attenti per insegnare ai bambini, sono piccole cose, ad usare per esempio la carta igienica dall'avanti all'indietro per evitare di portare i desici con il loro contenuto batterico nell'area vaginale, è una stupidaggine ma mi sembra ignorata, oltretutto una cosa che non ho detto, perché ovviamente sull'infezione dei urinari ci sarebbe da parlare per ore, è che la maggior parte dei batteri che colonizzano l'apparato urinario sono batteri fecali, cioè gli schiaricchiacoli che è 90%, viene dal nostro intestino, quindi vuol dire che si tratta di batteri che arrivano nell'area perianale, diciamo così, nella bambina vanno a colonizzare la vagina e l'area vaginale e poi risalgono. Perché colonizzano la vagina? Perché la vagina possiede una flora batterica naturale, bacilia acidofilo, lactus bacillus di Doderland, che impedisce lo sviluppo delle schiaricchiacoli. Anche un'eccessiva pulizia, diciamo, distrugge questa flora batterica locale per cui facilita l'ascesa delle schiaricchiacoli che non trova più nessun tipo di competizione locale, quindi questo è molto importante. L'incontinenza urinaria, cioè il fatto che un bambino ossia se la bambina soprattutto abbia sempre la regione perineale bagnata, favorisce ovviamente lo sviluppo di batteri, anche perché quando voi guardate queste bambine hanno, aprite le grandi labbra, sono molto arrossate, screpolate, disepitalizzate, chiaramente tutte quelle che sono le difese locali che impediscono l'ascesa dei batteri, sono rese inutili o frattomeno rirese inefficaci. Quindi direi che queste sono le cause principali. Se nonostante questo i bambini continuano ad avere infezioni urinarie, bisogna affrontare il problema dal punto di vista dello specialista.